La valorizzazione della storia è la nostra tradizione, tradizione fatta da imprese, da artigiani, da locali della gastronomia, da commercianti, da persone che hanno fatto del loro lavoro, del loro storia un pezzo di cuore a nostra Puglia, quindi il senso nuovo è quello di identificarlo, valorizzarlo, costruire le condizioni perché venga tramandato. Un avviso per manifestazione di interesse destinato alle attività che, avendo i requisiti previsti dalla legge regionale numero 30 del 2021, intendano avere il riconoscimento di negozio storico, bottega artigiana storica o locale storico ed essere così inserite nell'apposito albo regionale. L'iniziativa è finalizzata a tutelare e valorizzare il patrimonio delle aziende pugliesi che possono vantare una insegna storica, intesa non necessariamente come elemento fisico, ma come denominazione comunemente utilizzata nei confronti della clientela e identificativa dell'impresa. Le attività storiche, riconosciute con marchio identificativo e iscritte nell'elenco regionale delle attività storiche e di tradizione della Puglia, potranno beneficiare di numerosi interventi, tra cui contributi a fondo perduto ai titolari delle attività, agevolazioni per l'accesso al credito, premialità o riduzioni per tributi regionali, imposte e tariffe comunali, e supporto per i contratti di apprendistato per l'ingresso delle giovani e dei giovani nel mondo del lavoro. Quali sono i requisiti per essere considerati bottegastoni? Guardi, i requisiti sono tre. Uno dipende dall'attività, oltre 30 anni di attività, l'altro dipende dalla posizione della propria attività nel centro storico, perché noi vogliamo valorizzare questo valore in più che si dà nel centro storico e soprattutto la qualità dell'attività che si esercita in quel momento nell'attività artigiana. Quindi sono i tre valori che noi vogliamo dare e significare. Verranno queste indicazioni, saranno individuate con degli stemmi precisi che l'assessore adesso indicherà e saranno esposti di fuori dell'attività e quindi chi passa sa che tipo di attività troverà.